È una battaglia di diritti civili ma è anche una battaglia per il diritto alla salute. Ormai è un dibattito che è stato affrontato dalla comunità scientifica e la comunità scientifica e medica in maniera chiara stanno dicendo che ad uso terapeutico il composto con cannabinomidi allieva la sofferenza e sicuramente cura le malattie. Noi stiamo chiedendo alla regione siciliana di attivarsi così come hanno fatto altre regioni d'Italia per consentire facilmente il reperimento di questo farmaco perché non si trova facilmente e quando si trova a costi veramente elevati e questo esclude la possibilità di cura a soggetti che sicuramente sono meno abbienti. D'altra parte serve che anche le ASP e quindi le aziende sanitarie sul territorio abbiano degli iter prescrittivi del farmaco che possono consentire la cura al malato e devo dire che ormai ognuno di noi ha la prova provata di come alcuni oppiacei agevolino la cura delle persone. Quando si subisce un intervento chirurgico viene somministrata spesso della morfina per allevere il dolore. Quando si fa anche un semplice esame che possa essere una colon o una rettoscopia viene utilizzato materiale oppiaceo per consentire il superamento del dolore. Perché non consentire i sonniferi? Perché non consentire la cura tramite cannabis terapeutica a soggetti la cui comunità scientifica dice in realtà vengono beneficiati da questo oppiaceo. Questa è la nostra battaglia. È una battaglia tutta per la dignità del malato e per il diritto di cura e ci auguriamo di poter avere accanto a noi anche la regione siciliana perché serve ormai un iter burocratico normativo che semplifici ciò che ormai lo Stato accerta come diritto di cura. Grazie a tutti.